In casa Honda hanno deciso di fare le cose ancor più in grande dal punto di vista delle motorizzazioni. Ecco che cosa sta arrivando, l'ibrida da 800 CV che è un vero schiavo. Honda non si fa parlare dietro e con questa scelta si assicura un mezzo da pista, ibrido, potente, sicuro, strabiliante in cavalli e con una prestazione, quanto a mo'. Stiamo parlando della Honda CR-V Hybrid Racer, la nuova scelta da pista che in casa Honda hanno scelto di fare nell'ottica di un motore ibrido che sia sicuro, funzionale, ma potente. Stiamo parlando della Honda CR-V Hybrid Racer, la nuova scelta da pista che in casa Honda hanno scelto di fare nell'ottica di un motore ibrido che sia sicuro, funzionale, ma potente. Con 800 CV a disposizione, l'ibrida della Honda si sviluppa nel nome di una maggior sostenibilità ambientale ma anche di un conforto alla guida e una potenza e non solo. E non solo. Si è pensato di fare ancora di più e meglio. Come? I progettisti di Honda sono partiti dall'idea di cui sopra per poter sviluppare un percorso virtuoso ma funzionale in termini di perfetto. In fase di progettazione dunque l'idea di prestazioni elevate hanno spinto al concetto di fondo a cui si lega la Honda CR-V Hybrid Racer, che si fonda sul tema della guida in pista. Per farlo, trasferisce il carico dei suoi 800 CV su pista con modalità ibrida e, pare, un segreto prestazionale tutto da scoprire. In effetti, i dettagli ancora sono ignoti, e emergeranno a scoprire. Con la fine del mese di febbraio in effetti questo veicolo verrà svelato in modo ufficiale e dunque il telo di mistero verrà tolto, ma da quel che emerge sul suo potenziale, vi è anche un importante a scoprire. A fine del mese si passa dai passaruote stesi al tetto e portiere posteriori che diventano un corpus unitario, poi, splitter e minigonna con una vision, pare, più tradizionale e ali aerodinamica. E non è tutto. Abitacolo ristretto, schermo incorporato, informazioni tramite sensori e tanto a quanto all'aspetto motorizzazioni da capire meglio il rapporto tra aspetto termico e quello eletto.